ciao ciao a tutti des video allora cosa volevo dire volevo dire che oggi questo video è dedicato a marco de monsura marco de monsura che veramente è stato fantastico meraviglioso in questi giorni lo ringrazio veramente di cuore ringrazio cuoricione speciale 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 vabbè niente lo ringrazio veramente perché poi oltretutto ha regalato degli abbonamenti e ha fatto felice tante persone che magari non riuscivano come si può dire facciamo caduta spaziale proviamo magari non avendo la possibilità di abbonarsi quindi oltre a me ha fatto felice tante altre persone quindi grazie 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 marco e non so come ringraziarti non so trovare le parole per ringraziarmi per ringraziarti io vi devo dire la verità io tante volte ho paura di di non dare abbastanza per quello che fate voi perché molte persone cioè siete davvero così tanto tanto generosi con me io la mia paura di non come gioco male aspetta abbandoniamo dai facciamone un'altra perché queste comunque dicevo la mia paura di non di non dare abbastanza di tutto quello che ricevo grazie a voi del vostro affetto della vostra partecipazione di tutte le cose belle che fate per me quindi io spero davvero insomma che vi trovate bene da me delle mie live che vi divertiate che vi piacciono i miei video vi piacciono piaccio io come persona che come amico era una delle cose più importanti no perché poi sono un pessimo giocatore quello rio ormai l'avrete capito che sono piuttosto scarso si va beh però a tutto c'è un limite cioè scusa scusate no proviamo a farne un'altra ancora perché c'è veramente proprio tragica ma forse caduta spaziale non è non è la mappa che fa per me cado troppo spazialmente comunque ok io volevo dire grazie a marco devonsura bravissimo marco bravissimo marco ok rabbit ok rabbit ok un saluto a rabbit che voleva dire qualcosa e aghi non si fa sentire starà dormendo aghi ma ma cosa devo dire che sei troppo scarso 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 no questa non è la mappa che fa per me facciamo un gioco normale facciamo un gioco normale perché povero marco sto dedicando un video e sto uscendo vuole un video brutto va bene marco dai spero che tu ti diverta ugualmente ancora grazie grazie a marco de monsura viva marco viva marco viva marco de monsura de monsura il suo nome su fortnite ecco questa mappa dai questa mappa ve lo dico subito che questa mappa mi qualificherò e adesso mi sono gufato dicendo questa cosa no dai ce la faccio dai che dite c'è che dite c'è che dite ormai c'è questo video sarà è un video registrato quindi ci avete poco da dire però ma si la prima si la prima mi qualifico ok ebbene ebbene meno male meno male allora poi che mappa mi danno adesso che mappa mi fate fare vediamo vanno talmente veloce non si capisce niente che boppo facciamo e l'ora ma si muove o no no ma no ma no ma sul serio stiamo socia fa il gol mamma mia è una di quelle che mi piace di meno è noiosa sta mappa noiosa c'è magari qualcuno piace però allora è pallone pallone no 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 già uno per loro andiamo bene e allora ma come 2 a 0 per loro oh oh azzurri su azzurri dai una è andata stava andando anche l'altra eccellenza o ho 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 no 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 oh aiuto dai azzurri dai azzurri abbiamo fatto solo uno noi dai mappa importa sono pessimo questa ma vai aiuto 5 a 1 per lo vabbè ho già perso ho già perso 5 a 1 cosa riusciamo a fare in poco tempo proviamo niente ok che mappa c'era dopo comunque volevo dire a marco de monsura vabbè mi dispiace il video non ho fatto delle gran partite però spero che ti sia piaciuto il fatto che ti ho dedicato il video ancora ancora grazie se una persona gentilissima davvero davvero tanto gentile generoso poi anche gli altri che hanno ho sentito qualcuno su fortman che ha iniziato anche a giocare con te mi hanno detto proprio che sei una persona fantastica e quindi complimenti davvero e grazie grazie per tutto quello che hai fatto anche per supportando il mio canale grazie 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 davvero davvero tanto dai guardiamo un po chi finisce qua guardiamo chi la vince anche se sono persone che non conosco ma si mar max zb fabiuccio zb fabiuccio ok e va bene va bene ha vinto questo bn 19 ok un salutone marco grazie ancora tutto questo video dedicato a te marco de monsura ciao a tutti i test video grazie a tutti quelli che guardarono questo 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 video